Un nuovo strumento innovativo dal costo importante 85.000 euro. Si tratta del laser adolmio per calcolosi e ipertrofia benigna della prostata, donato dal Calcit e quindi dagli aretini all'urologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il rapporto con l'associazione Calcit è storico, consolidato e ricco di opportunità. Opportunità che vanno dalla comunione di intenti, il rapporto con le associazioni serve all'azienda perché tramite le associazioni orientiamo meglio la nostra azione. Occasione straordinaria anche per le donazioni che rappresentano un po' il sale della collaborazione. Lo strumento consentirà al reparto di urologia di dare inizio ad un servizio nuovo per l'ipertrofia prostatica. Il laser permetterà inoltre il trattamento delle calcolosi sostituendo così il vecchio strumento ormai obsoleto. È stato donato un laser che sostituisce uno già utilizzato da molti anni dalla nostra divisione di urologia per la terapia della calcolosi urinaria e per l'ipertrofia prostatica. Subito dopo seguirà un altro laser, stavolta finanziato dall'azienda USL che renderà così l'azione della nostra urologia di Arezzo a 360 gradi su tutto un insieme di patologie.